L'informazione ultima l'abbiamo ricevuta giovedì, anche noi l'abbiamo sentita in tempo reale, per cui sta tutto nel percorso che abbiamo già definito. Faremo probabilmente entro la settimana un'assemblea che potrebbe essere già venerdì di questa settimana, adesso penso già domani daremo comunicazione. Vorrei dire che tutto il percorso fatto fino ad oggi è stato nella massima trasparenza, perché tutti gli appuntamenti erano tutti pubblici, anche quello di giovedì è stato fatto volantinaggio in tutti i quartieri, tant'è che c'era parecchie persone che hanno seguito in diretta, quindi massimo coinvolgimento come giusto che sia. Fra l'altro dove avevamo informazione abbiamo già fatto gli incontri con i residenti, per esempio a Metaurilia, abbiamo contribuito anche nel scegliere il posto migliore per il congiungimento con il mare. Ci siamo confrontati, abbiamo raccolto anche suggerimenti dicendo che tutto è sotterraneo, quindi non c'è nessun problema, nessuno si accorgerà nulla se non dei lavori che verranno fatto quando ci saranno, che non sono oggi, sono lavori di alcuni anni e inizieranno dopo il 24, quindi non c'è preoccupazione e fretta. Per quello che riguarda ovviamente l'ubicazione della stazione di trasformazione, oggi abbiamo elementi nuovi e su questi ci confrontiamo, tenendo conto che ovviamente questa è una strategia nazionale, non è una scelta che fa l'amministrazione, che in qualche modo subisce, nel senso che stanno su pianificazioni strategiche del governo che riguardano ovviamente le infrastrutture per l'energia del paese e anche dei nostri territori. Quindi ci sono delle risorse da poter investire a Carrare invece per le opere compensative? Sì beh, ovviamente le risorse sono quelle compensative, anche qui ho sentito, si fanno tutto da altre parti, non è stato deciso nulla. Abbiamo noi da subito chiesto di poter fare degli interventi sulla rete, quelle che noi conoscevamo. Per il resto non c'è oggi, perché finché non sapevamo quale fosse l'ubicazione della stazione, non avevamo elementi e risorse su cui fare riferimento. Quindi da subito inizieremo a ragionare su quelli che possono essere gli interventi. Io come sindaco conosco molto bene la zona, quindi conosciamo i problemi, per cui non è che ci siano sorprese particolari. Per cui anche su questo non mettiamo in circolo informazioni che oggi non corrispondono al vero, non c'è nulla di definito, è tutto da costruire, che avverrà tutto con un confronto. Ovviamente questo avverrà oggi perché abbiamo gli elementi definiti.